Grande successo, come ogni anno, per la tradizionale festa sotto la torre, svoltasi sabato scorso a Piraino Centro. Una serata all'insegna del divertimento, con musica e diverse postazioni per le degustazioni di prodotti tipici dei nebrodi. Il pittoresco Borgo di Piraino ha fatto da cornice la serata, allietata dalla musica dal vivo e dai giochi pirotecnici, scenograficamente lanciati dalla torre Saracena di Piraino.